ok così la registrazione sarà a disposizione come sempre ok allora è arrivata la prima domanda sulla chat non è che cosa appunto se scrivete qui per me va benissimo ma l'importante è solo che sappiate che non so bene se resta registrato o no ok allora dunque prima di tutto ok prima di tutto grazie che siete intervenuti a questa discussione avete già visto il tema d'esame che è stato un pochettino modificato cioè c'è già una versione diciamo così con qualcosa in rosso che sono le modifiche sulla base del fatto che diciamo il corso in inglese ha già fatto la chat lunedì e quindi avete c'è già stato un feedback diciamo del riguardo a quello che è stato diciamo interpretato da alcuni studenti ok vedo che ci sono già un po' di domande prima di leggere le domande e dare ovviamente risposta volevo solo sottolineare una cosa che ho già sottolineato sul canale Slack ieri ossia che abbiamo introdotto queste modifiche importanti cioè abbiamo tolto questa dicitura ogni ruolo ha anche accesso alle funzionalità dei ruoli inferiori per semplificare il tema d'esame nel senso che a questo punto visto che abbiamo anche aggiunto per precisare tutti gli utenti hanno questo ruolo di studente quindi tutti gli utenti possono fare quello che può fare uno studente che è questo poi però quando si tratta di diventare amministratore di gruppo amministratore generale le due cose possono essere tenute disciunte questo è più che altro per semplificare la gestione dell'interfaccia perché altrimenti potrebbe diventare complicato se per caso qualcuno di voi però come scrivevo ieri avesse già provato a implementare si trova bene con diciamo la versione precedente visto che abbiamo tolto ma non abbiamo messo un requisito che le due cose siano separate può andare bene anche tenerle insieme l'importante che però appunto ci siano a disposizione tutte le funzionalità previste quindi è una cosa fatta nell'ottica di semplificare speriamo che semplifichi vedete voi come vi viene comoda diciamo così l'implementazione ok allora vado a vedere subito le domande quindi dunque intanto le riporto nel foglio online mentre parliamo quindi dovrei poter editare per quanto riguarda il colore del gruppo esso dovrà essere scelto in fase di creazione del gruppo ma visto che deve essere unico per l'intera applicazione bisogna necessariamente avere un intero aspetto di colore e registrare il colore nel db ad esempio e 0 10 c 0 è diverso dai 0 10 c 1 sebbene impercettivi ecco questo è una vostra scelta però giustamente come fa notare il vostro collega sarebbe bene che i colori fossero cioè la differenza tra i colori fosse percepibile quindi ora non è il caso di arrivare a metterlo nel db anche se se volete fare così va benissimo non è necessario che siano nel db diciamo quindi l'alternativa potrebbe essere fondamentalmente che avete una lista di colori che utilizzate anche già scritta direttamente nell'applicazione giusto per assicurarsi di usare dei colori abbastanza diversi come diceva il vostro collega se faccio il verdino di un certo tipo poi il verdino appena più chiaro appena più scuro finisce che non si vede poi la differenza quindi avete una lista di colori non so mettiamo una decina o qualcosa di questo tipo all'interno della vostra applicazione o nel db se volete metterlo nel db o da qualche altra parte o la calcolate in qualche maniera in maniera che i colori siano un po' diversi cioè effettivamente si vede la differenza forse la cosa più semplice è avere una lista un array di una decina di colori dentro l'applicazione è vero che nel momento in cui avessi l'undicesimo gruppo il meccanismo non funziona più però è anche vero che dobbiamo cercare di focalizzarci sulle questioni importanti del tema d'esame e non questo aspetto che è un po' secondario quindi può essere un array fisso all'interno dell'applicazione anche se poi comunque diciamo che avete la necessità di andare ad associare il colore all'interno del db quindi vedete un attimo dove tenere l'informazione o in altro luogo anche nel db quindi mi raccomando di non piantarsi su queste cose non è difficile fare una decina di colori diversi cominciate dal rosso, verde, blu giallo arancione, viola non lo so insomma non è che ci va tanto fare un po' di colori ci limitiamo ad un numero ragionevole di numero ragionevole esempio 10 fino a 10 insomma qualcosa di questo tipo ok quindi avere una lista di colori implicitamente si limita il numero di gruppi rappresentabili quindi l'ultima domanda ma visto che la risposta prima io la metterei qui sì sì ma se il numero è ragionevole 10 esempio 10 va bene ok quindi l'abbiamo scritto esplicitamente così che non ci siano dubbi di interpretazione e e quindi insomma non corriamo dietro a questa questione del colore cioè di come faccio a creare il prossimo colore dati colori che esistono già perché insomma non è quello che mi cambia il risultato del tema d'esame e e non è l'importante insomma è vero che in un'applicazione reale poi sarebbe più chi ma chi no magari vorremmo avere che sia una funzione che ci dia un nuovo colore e poi è chiaro che più ce n'è più sono difficili da distinguere infatti insomma e questo approccio è anche limitato di suo nel senso che nel momento in cui avessimo 100 gruppi e 100 colori poi cominciamo a praticare a distinguere comunque sia il meccanismo che utilizziamo quindi è un'applicazione che va bene per fare del appunto per un numero di gruppi limitato però per sviluppare qualcosa di interessante quando un gruppo è cancellato viene cancellato dal DB tutta la storia del gruppo visto che non è più accessibile gli studenti che partecipavano amministrati del gruppo incontri passati ai futuri direi di sì andiamo a vedere il testo dunque quando si cancella un gruppo cancellare uno study group SG direi di sì direi di sì 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 è possibile quindi sì è possibile anzi sì sì va bene va bene non è che dobbiamo mantenere alcuna storia sempre tutto ciò che non è richiesto non è non è richiesto appunto quindi è inutile implementarlo mi complica solo il tema d'esame è troppa roba eccetera quindi va bene così se avete dei dubbi poi c'è sempre Slack ah poi c'è una domanda su Slack adesso arrivo anche dalla Slack per quanto riguarda la scelta del luogo di incontro dovremmo prevedere un campo di testo libero oppure dobbiamo ritenere la possibilità di incontrarsi in una lista per definita di luoghi a sua scelta di nuovo non è specificato la cosa più più semplice personalmente ritengo che la cosa più semplice sia codice nome incontri combinare di incontri creare un nuovo ecco si parla di luogo campo di testo uno ci scrive quello che vuole va bene così perché se uno deve fare la lista poi si ritorna al problema di prima cioè dove tengo la lista la metto nell'applicazione e poi e poi se c'è qualcuno che vuole un altro luogo e testo non è una data date e ora hanno dei vincoli dati dal tipo di valore cioè una data un'ora un giorno un mese un anno anzi scusate un'ora separata un giorno un mese un anno l'ora durata non so decidete siano minuti fondamentalmente un numero di nuovo non è il caso di mettersi lì a fare ore più minuti se uno mette minuti va bene magari non metterei secondi perché fa ridere dire quanto dura ci incontriamo per quanto stiamo per 3600 secondi mi sembra un po' fa un po' ridere se diciamo 60 minuti una cosa ragionerà luogo appunto testo ok poi se ci puoi qualcuno che vuole intervenire anche a voce finite le domande che sono solo più tre poi lasciamo spazio anche per intervenire a voce allora per ah no per l'amministratore di gruppo che definisce un nuovo incontro futuro non è specificato ma ho supposto che nel registrare un incontro futuro per il gruppo se necessario non sovrappola ad altri incontri futuri dello stesso gruppo dunque eh sì è ragionevole è ragionevole perché anche se non è specificato è vero quindi definire gli incontri futuri qui non si dice nulla si parlava solo di per lo studente registrarsi per un incontro futuro quindi se l'incontro si sovrappone un altro cui si è già registrato il sistema chiederà una conferma ulteriore quindi di per sé c'è solo questo vincolo però quello che dice sì è ragionevole anche se non richiesto è ragionevole anche se non richiesto quindi è ragionevole anche se non richiesto vuol dire che diciamo vabbè mi fa piacere fare un'applicazione ben fatta con questo diciamo ulteriore caratteristica ma la lascerei per ultima tanto alla fine è solo un if più un feedback eventualmente a chi crea l'incontro e quindi diciamo non essendo richiesto lo lascerei per ultimo anche perché non ha un impatto così notevole sulla logica dell'applicazione tutto il resto può funzionare anche se l'incontro fosse sovrapposto è certo che chi si prenotasse per quell'incontro avrà sempre la sovrapposizione no? e se se no scusa se se già prenotato però all'altro quindi di per sé non è detto neanche che ce l'abbia quindi è proprio una questione di interpretazione ragionevole ma non è richiesto e i colori ne abbiamo già parlato ok quando un amministratore del gruppo definisce un nuovo incontro bisogna controllare che sia da che sia ora e data non coincidano con gli altri incontri riferiti allo stesso gruppo e di nuovo come sopra allora siete sovrapposti come sopra quindi non è richiesto adesso puoi metterlo in corsivo dopo allora prendiamo la domanda su slack che è in attesa quindi adesso mi compare senza che faccia ops se me l'ha incollata scusate ok eh vabbè modificato non ci interessa quindi gli studenti gli utenti studente possono vedere la lista degli incontri dei gruppi di studio di cui fanno parte per quanto riguarda la lista degli altri partecipanti al mese di un gruppo di studio possono essere in grado di vederli mi sa che di nuovo non è richiesto no? registrarsi non è richiesto quindi non c'è nella lista non è richiesto quindi vediamo semplice non è richiesto tutto ciò che non è richiesto è vero potrebbe essere ragionevole per chiarità non c'è dubbio la questione è sempre la solita cioè uno può mettere tutte le funzionalità che vuole però finisce che fa più lavoro e che poi alla fine non è neanche valutato essendo appunto non richiesto quindi secondo me è inutile spendere tempo su questi aspetti se vi viene gratis una riga di codici volete farlo volete per vostra soddisfazione perché tanto la lista l'avete già implementata per l'amministratore del gruppo e non vi costa niente c'è il bottone si può anche fare però non non è richiesto però l'altro ecco forse la lista degli studenti non so è un po' non è neanche che sia una cosa così bella forse da mettere per il singolo studente perché perché magari è una cosa riservata all'amministratore di gruppo un po' come se voi vi scrivete una mailing list non è che per prima cosa vi danno la lista di tutti gli iscritti della mailing list però diciamo che non è di nuovo un aspetto fondamentale dell'applicazione quindi non è richiesto se uno implementa queste funzionalità dello studente delle funzionalità per lo studente va benissimo ok quindi vediamo se ci sono altre domande nel frattempo c'era forse qualcuno che scriveva su slack sì esatto allora quando il sistema faccio un po' incolla allora quando il sistema invierà allo studente una conferma ulteriore per prenotarsi questa conferma è possibile gestirla solo front-end cercando sulla lista degli incontri già ottenuti da DB precedentemente è necessario un API per questo ecco questa è una domanda più interessante dunque allora visto che è lo stesso utente ed è lo stesso utente che si è registrato un altro incontro io direi che si può gestire front-end basta basta il front-end è sufficiente il front-end perché perché si tratta in questo caso è sufficiente il file sull'altro front-end perché semplicemente perché assumiamo che non è che l'utente sta lavorando da due posti diversi sullo stesso diciamo sulla stessa applicazione quindi non è che da una parte sta prenotando dall'altra sta sprenotando è lo stesso utente e quindi in questo specifico caso se io ho caricato tutti ho l'informazione sul front-end e quindi diciamo come dice il vostro collega ho la lista degli incontri già ottenuti dal DB precedentemente a cui mi raccomando però si è prenotato quell'utente non è la lista generica perché il testo dice ha un incontro a cui si è registrato si è registrato non prenotato registrato allora posso farlo quindi se fosse stato che diciamo era un se c'era in conflitto con un altro utente eccetera tutte cose che non c'entrano niente che non abbiamo messo nel testo allora forse sarebbe stato bene ricaricare i dati dal DB perché abbiamo detto che visto che non abbiamo nessuno che ci notifica quello che accade sul server quando possiamo è ragionevole andiamo a caricare il DB ma questo però non è il caso perché perché è sempre lo stesso utente è l'utente che ha fatto un'azione prima e quindi l'azione non cambia fino a che l'utente non fa qualcos'altro cioè è registrato c'è un'altra registrazione quindi se io ho l'informazione sul frontend posso farlo anche solo sul frontend se qualcuno l'ha fatto con un API vuole farlo con un API eccetera va benissimo con l'API perché perché diciamo può benissimo essere un'azione da 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 fare sul server nel senso che per esempio ci fossero tanti incontri magari uno non vuole caricarli tutti non vuole caricare specificamente tutti gli incontri di quell'utente vuole fare l'azione sul server per qualche motivo perché magari il server deve fare altre azioni in un'ipotetico in un'ipotetica applicazione diversa da questo tema d'esame magari voglio mandare un'email voglio fare qualcosa e allora tanto vale che faccio tutto sul server e posso fare un API in questo caso non è necessario ok c'è ancora una domanda quindi potrebbe chiarire meglio il fatto della non approvazione automatica nel caso in cui un amministratore generale faccia richiesta cioè anche se un amministratore generale fa richiesta di partecipare a un gruppo di studio deve essere necessariamente approvato dall'amministratore il gruppo sì sì perché pensiamo che sia più semplice quindi questo ci porta al fatto che in realtà io ho già risposto in questo documento le quattro domande che c'erano su Slack potremmo andarla a vedere ma quindi questa è la questione se l'amministratore generale deve e deve essere approvato e dovrebbe essere più semplice in questa maniera e quindi io vi consiglierei di sì non c'è scritto diversamente nel testo perché quindi un amministratore generale ha anche il ruolo di studente perché tutti hanno quel ruolo lì quindi può registrarsi e quando uno si registra c'è un'approvazione e quindi qualcun altro che sia amministratore di gruppo deve approvarlo se poi è lo stesso che l'amministratore di gruppo quando capiterà che si entra come amministratore di gruppo si seleziona la funzione amministratore di gruppo eccetera verrà fuori una lista di cose da approvare e si potrà approvare quindi io direi che potremmo magari vedere vale la stessa cosa per l'amministratore di gruppo direi di sì adesso lo metto quindi torniamo in basso con il lato in basso vale la stessa cosa per l'amministratore di gruppo sì io direi proprio di sì perché e di nuovo perché dovrebbe essere la cosa più semplice se poi per l'amministratore se l'amministratore di gruppo è chiaro che lui può approvarsi la richiesta e quindi magari da qualche parte nel menu visto che è entrato come amministratore di gruppo spunta fuori anche un bottone approva e quindi senza aspettare niente c'è un bottone approva e se l'approva però è un'azione in più quindi l'azione di approvazione è sempre in più poi magari qualcuno viene fuori con qualche idea fantasiosa per chiarità però questo dovrebbe essere il metodo più semplice io andrei quindi a dare un'occhiata alle domande che erano già state fatte su Slack ah no allora vediamo un attimo ce n'è ancora una visto che legandosi alla domanda precedente quindi legandomi alla domanda precedente se avessi già implementato la vecchia versione ogni ruolo superiore ha il ruolo inferiore se un amministratore generale fa richiesta poi lo stesso potrà dare conferma quindi sì sì dunque ah no ho inserito ad uno per cambio quindi abbiamo implementato la versione non è il caso di cambiare non è il caso di cambiare magari si può specificare nel readme magari ce lo scrive solo nel readme così ci ricordiamo sia lei che noi ok quindi come dicevo prima è più complicata per quello che l'abbiamo tolto però se qualcuno vuole rimanere diciamo col vecchio sistema perché l'ha già fatto perché perché gli viene bene così eccetera e quindi lo stesso amministratore può autorizzare la sua richiesta non è necessario aspettare l'autorizzazione di un amministratore diverso sì quindi adesso mi collo sì se è l'amministratore del gruppo e questo è come abbiamo detto adesso nel testo o l'amministratore generale o uno degli amministratori generali nel caso del testo precedente se uno avesse già implementato pensando che l'amministratore generale possa fare tutto ok quindi abbia anche il ruolo di amministratore di gruppo per tutti i gruppi che però abbiamo tolto perché riteniamo più complicato da fare ok bene quindi mi raccomando però se uno è amministratore di un gruppo e si è registrato per un altro se l'amministratore del gruppo A non è l'amministratore del gruppo B quindi non è che può approvarsi la richiesta per il gruppo B se invece è amministratore generale diciamo nella vecchia versione può approvarselo perché è amministratore di tutti anche ok sì ancora una domanda arriveremo a vedere le domande in cima che comunque non sono nulla di speciale magari l'avete già anche letta quindi la precisazione un amministratore di gruppo per essere tale deve essere già studente sì l'amministratore di gruppo sì l'amministratore di gruppo per essere tale deve essere già studente cioè tutti gli utenti tutti gli utenti nascono col ruolo di studenti quindi tutti sono già studenti un amministratore generale può scegliere quelli di gruppo dalla lista studenti dunque vediamo un amministratore generale creare aggiungere numero selezionandoli no non dalla lista degli studenti ma dalla lista dei membri correnti del gruppo ok quindi non è corretto dalla lista degli studenti magari spezziamo la domanda quindi facciamo sì rimane più chiaro un amministratore generale quindi no virgola solo da solo selezionandoli dalla lista dei membri correnti del SG ok quindi non sono tutti gli studenti ma i membri correnti cioè non posso prendere uno studente qualsiasi che non partecipa all'SG e farlo amministratore del gruppo lui deve prima fare richiesta la richiesta approvata quindi diventa partecipante e poi da quella lista clicco come amministratore generale lo faccio diventare amministratore del gruppo di studio ok dunque intanto c'è forse qualche altra domanda allora c'è ancora una domanda studente inserito in un determinato sì comunque abbiamo risposto c'è una domanda su zoom quindi la mettiamo qui allora per quanto riguarda gli utenti che sono sia studenti che amministratori generali dobbiamo scegliere noi con che ruolo accedere no accedono con entrambi i ruoli cioè cosa vuol dire vuol dire che nel momento in cui io accedo come studente entro dentro avrò un menu da qualche parte in cui ho delle azioni possibili vedo cosa c'era scritto vedo la lista dei gruppi no questo è l'amministratore vedo la lista di tutti gli stadi di gruppo quindi i gruppi di studio posso cliccare su uno insomma con qualche azione e chiedere di partecipare ad uno gruppo di studio vedere la lista degli incontri futuri degli studi gruppo a cui partecipo eccetera quindi ci sono queste azioni però io quando entro se sono anche amministratore generale vedrò dei bottoni in più dei menu in più non so dipende da come l'avete implementato e posso fare delle azioni in più ok quindi non è che devo decidere se entrare come utente studente o come utente amministratore generale o come utente amministratore cioè io quei ruoli ce li ho abbiamo semplicemente detto che non devo come amministratore generale avere tutti i ruoli inferiori ma perché se no appunto poi questo menu diventava complicato ok però se lo volete fare va bene lo stesso quindi attenzione questo è un punto importante quindi entrambi i ruoli contemporaneamente temporaneamente ossia una volta diciamo fatto l'accesso entrambi no scusate vedono sono possibili possibili le azioni corrispondenti ad entrambi i ruoli quindi appunto ho un menu per lo studente ci saranno delle cose per l'amministratore ce ne saranno delle altre e ci sono tutte e due pronte per essere utilizzate se sono solo studente ci sono solo quelle dello studente se sono amministratore del gruppo ci saranno quelle dello studente più quelle dell'amministratore del gruppo ok ok quindi qui non vedo altre domande neanche quindi direi che possiamo dare ancora un'occhiata alle domande diciamo che erano state poste in passato ma a questo punto forse saranno abbastanza banali quindi un amministratore in un gruppo potrà visualizzare i gruppi di studio che può amministrare ma allo stesso tempo ha accesso alle funzionalità di livello inferiore quindi di studenti che può visualizzare i studi ecco questo è quello che abbiamo proprio detto appena adesso poichettizzando che lavorando su diverse visualizzazioni dell'app bisogna mostrare una visualizzazione da amministratore su quelli che si amministra nella visualizzazione dei studenti tutti quanti sì ecco questa era una possibilità e come ho scritto non è l'unica posso avere tutto insieme oppure posso avere un bottone in cui diciamo posso come dire visualizzare le opzioni relative all'amministratore secondo me quello in cui si visualizza tutto da subito è la cosa più facile è anche più intuitiva dal punto di vista dell'interfaccia l'importante è che non è che io posso cioè non è che io devo rifare l'autenticazione decidendo ogni volta il ruolo perché l'autenticazione una sola volta poi vabbè posso navigare diversamente nell'interfaccia ognuno farà l'interfaccia come ritiene opportuno però non devo rifare l'autenticazione decidendo di essere di di entrare con un altro ruolo ok poi c'è una domanda qui poi copio sul documento ma non interrompere comunque la leggo un utente che non è registrato non può accedere in nessun modo all'applicazione giusto 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 questa è un'applicazione in cui tutti gli utenti sono registrati quindi diciamo così che praticamente ovviamente nell'applicazione non si può fare niente se non autenticarsi per prima cosa comunque poi la mettiamo nel primo punto è la funzionalità di un amministratore di gruppo elencata per mostrare i gruppi di studio che può amministrare la lista di sui meme per l'inizio si viene specificata la stessa funzionalità di un amministratore generale che però può visualizzare anche la lista degli amministratori e la lista di incontri passati e futuri dunque mi chiedevo quali opzioni seguire ecco questo noi l'abbiamo specificato fondamentalmente per dire se avete fatto un componente un qualche cosa del codice per realizzare questa funzionalità probabilmente potete riciclare il codice semplicemente ci sarà un if da qualche parte che dice se avete il ruolo di amministratore generale vedrete tutto se no vedrete solo alcune cose quindi non è una cosa da decidere l'implemento l'uno o l'altro è un consiglio poi uno può anche duplicare il codice e fare tutte queste cose che non sono raccomandabili però diciamo avete la lista di quello che deve essere visto da una parte cioè come un ruolo amministratore generale oppure come un altro ruolo amministratore poi l'implementazione come sempre sta a voi è anche un po' oggetto della valutazione per quanto riguarda la lista degli amministratori di un gruppo che un amministratore generale può visionare è possibile per esempio inserire un emoji una faccina queste cose qua insomma un disegnino un'icona nella lista dei membri per indicare l'admin oppure devo inserire devono essere due liste indipendenti ecco qui entriamo in un campo un po' particolare nel senso noi nel testo abbiamo scritto lista dei membri virgola lista degli amministratori virgola lista ovviamente dunque gli incontri passati e futuri sono una cosa diversa e non sono membri quindi va da sé che è una lista separata queste due liste sono due liste di membri anche perché gli amministratori di gruppo sono membri per forza e quindi di per sé appunto siccome nel testo abbiamo scritto due liste sarebbe meglio tenerle separate anche perché se mi usate un emoji strano poi uno prova l'applicazione per conto proprio e dice ma la lista dell'amministratorio sarà magari viene fuori piccolo anziché grande anziché come lo volete voi oppure mi avete che so colorato il nome del membro del gruppo eccetera e non è che sia così intuitivo mentre se invece c'è scritto lista scusera lista lista amministratori e lista partecipanti insomma c'è scritto in cima è molto semplice e molto chiaro ecco ricordatevi solo che può esserci più di un amministratore di un gruppo quindi di per sé come dire certo se uno vuol fare l'interfaccia bene magari ha un'idea diversa eccetera potrebbe provare ecco io sconsiglio un pochettino di andare tanto distanti da quello che dice il testo qui si parla di lista virgola lista ci sono altri posti dove non si dice nulla quindi come faccio a a cancellare per dire un study group ecco vedete voi volete metterci il bottone cancella di fianco voleteci mettere volete ci volete mettere l'iconina del cestino insomma aggiungere mettete più da qualche parte mettete un link con scritto aggiunge eccetera queste sono più libere qui invece è la lista avevamo esplicitamente parlato di due liste che non vuol dire che diciamo se è molto chiaro uno debba per forza fare le due liste però diciamo che è sicuramente più rischioso nel senso che se poi uno mentre prova non vede poi bisogna discuterne durante l'orale capire un attimo se effettivamente questa funzionalità c'era funzionava bene eccetera ok ecco qualora un utente con il ruolo di amministratore generale di gruppo faccia richiesta di partecipazione a un gruppo di studio questo è considerato automaticamente approvato o sarà necessaria l'approvazione non si prevede alcuna approvazione automatica come dicevamo prima sarà necessaria l'approvazione tra l'altro pensiamo che sia anche la soluzione più semplice da implementare poi è vero che ci potrebbero essere tanti miglioramenti a questo testo ma anche è vero che cerchiamo sempre di mantenerlo semplice perché perché il vostro tema d'esame non vorremmo ci dispiace anche se se pensate che diamo una cosa troppo difficile quindi cioè piuttosto chiedete se possiamo rispondiamo diciamo se non è proprio come implemento questa funzionalità cercando di dare l'indicazione che riteniamo sia più semplice da realizzare ecco con l'eliminazione questa deve essere l'ultima con l'eliminazione la frase nella nuova traccia ogni ruolo ha anche accesso a tutte le funzionalità ruole inferiore e si vuole intendere praticamente dato che tutti gli utenti logati hanno il ruolo di studente per l'amministratore generale non è amministratore di tutti i gruppi e quindi sono due ruoli indipendenti sì come diceva anche la versione precedente va bene ma è più complicato che abbiamo voluto semplificare quindi di per sé potete anche diciamo per chi soprattutto ha già implementato quelle funzionalità già messo a lavorare ragioniamo in quei termini e vuole farli in quei termini va bene anche così va bene anche con l'amministratore generale che può fare tutto però è chiaro che diventa più complicato perché sono più o meno cosa da gestire nell'amministratore generale ok ecco do risposta esplicita allora ancora le ultime due domande che sono su zoom quindi un utente che non è registrato non può accedere in nessun modo all'applicazione giusto giusto ok poi c'è ancora un'ultima domanda un amministratore generale deve ricevere richieste da uno studente per ottenere il ruolo di amministratore di gruppo e accettarle o li sceglie casualmente no li sceglie come vuole non è previsto li sceglie ok casualmente casualmente nel senso li sceglie cliccando sull'interfaccia no li sceglie l'amministratore generale quando interagisce con l'applicazione ok quindi non è previsto di mandare una richiesta voglio diventare amministratore di un gruppo è previsto solo di chiedere di partecipare a un gruppo di studio per lo studente e poi c'è un amministratore generale che decide chi fare amministratore del gruppo ok è limitato lo sappiamo se fosse un'applicazione reale probabilmente vi chiederebbero di implementare un meccanismo come questo che avete scritto però di nuovo dobbiamo cercare di mantenere la complessità della cosa limitata se no avete un tema di esame più difficile più difficile soprattutto di quello che hanno fatto gli altri negli altri peli che non andrebbe bene ok quindi direi che abbiamo esaurito le domande e quindi se effettivamente si siano tutte se mi sono scordato qualcosa scrivete pure se non ci sono altre domande altri dubbi io direi che possiamo terminare qui ovviamente da adesso in poi cercheremo di dare una risposta tempestiva alle domande che avrete sul tema d'esame e che scrivete sul canale slack prima invece abbiamo aspettato appunto questa video chat per discutere un po' bene di tutto quanto insieme quindi le domande le risposte le ho date solo ieri sera e quindi direi che siete pronti a proseguire a finire la vostra implementazione e quindi da consegnare entro il 7 settembre sera sembra col solito metodo sul github dovete accettare l'assignment vi viene creato il repository e clonate il repository lavorate lì dentro fate il commit col tag final eccetera tutto come spiegato nelle istruzioni come avete fatto peraltro nei big lab quindi niente di nuovo ricordatevi solo di predisporre il progetto in maniera che ci siano almeno 5 utenti almeno 2 gruppi di studio con un seguente schema perché perché se no non possiamo testarlo perché non c'è il bottone aggiungi utente non c'è il bottone cioè deve esserci un amministratore generale e così via perché altrimenti non non riusciamo a fare il test e poi ci sono tutte le solite istruzioni che però sono le stesse identiche degli altri temi di esame ok se ci sono dubbi o domande scrivete pure su Slack se no direi che abbiamo terminato qui se siete ancora in vacanza buona terminazione in vacanza e ci sentiamo su Slack e poi direttamente all'esame se decidete appunto di consegnare e venire all'ora grazie per l'attenzione e a presto ok